Buongiorno a tutti, sono Antonio Veraldi, siamo all'ultimo giorno di Forum PA e invece di iniziare a ragionare in termini di consuntivi su quelli che sono stati i risultati di questa manifestazione rilanciamo, rilanciamo con un appuntamento, con l'appuntamento di oggi iniziamo un cammino che ci porterà ad una nuova nostra manifestazione, nuova nel senso rispetto a quella che stiamo facendo oggi, anche se arriva la sesta edizione che è Forum Sanità che ci sarà ad ottobre. Nel definire i confini di questa manifestazione di ottobre abbiamo scelto il paradigma del One Health che trova le sue radici, in realtà non è una novità, trova le sue radici addirittura nella dichiarazione di Almata e poi viene coniata come definizione nel 2004, quindi un paradigma che ha già la sua età, rafforzato dalla stringente attualità di questo periodo, a cui non faccio riferimento perché tanto è patrimonio comune, è inutile far ripetere di nuovo gli stessi contesti. Che cosa significa One Health per noi? Significa riconoscere che la salute delle persone, che per la salute delle persone servono degli approcci globali, degli sforzi globali e qui mi piace sottolineare, visto che sarà anche uno dei nostri ospiti, la definizione che ne ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè approcci e sforzi globali per progettare, implementare programmi, politiche, norme e ricerche in cui diversi settori cooperino per raggiungere i migliori risultati per la salute pubblica. Questo mi aiuta a definire il contesto che poi verrà invece sviluppato dai nostri relatori. E noi crediamo che la realizzazione di tale paradigma, in questo aggiungiamo la nostra caratteristica specifica, FPA voi sapete appartiene al gruppo Digital 360 che come missione aziendale ha affiancare e accompagnare amministrazioni e imprese nella trasformazione digitale. Crediamo appunto che anche nella realizzazione di questo paradigma fondamentale sia passare attraverso un uso consapevole e interoperabile della leva digitale. Questo è il confine che posso descrivervi io per accompagnarvi, per introdurvi nella nostra giornata dei lavori. Adesso però vi presento quelli che sono i nostri candidatori che invece scenderanno ognuno per la parte di propria competenza in un approfondimento di questo concetto. A fianco a me vedete, spero che sia inquadrato Alessandro Longo che è il direttore dell'AgendaDigitale.eu, la testata del gruppo che è focalizzata sulla trasformazione digitale, mentre in collegamento con me abbiamo Carla Collicelli, che credo non abbia bisogno di presentazioni, la ricordate sicuramente al Censis, ora impegnatissima con Asbis, sul fronte accademico CNR, quindi non aggiungo altro. Carla ci aiuterà a disegnare il confine del One Health come concetto. La declinazione sul digitale l'ho chiesta a Mariano Corso, direttore scientifico degli osservatori del School of Management del Politecnico di Milano e anche presidente di P4i, azienda del gruppo Digital 360 con la quale noi di FPA organizzeremo appunto Forum PA Sanità. Al termine di questi interventi di introduzione e di definizione dell'ambito guiderò una tavola rotonda a cui ho chiesto di partecipare per i contributi che ognuno di loro può dare alla definizione di questo quadro. Parteciperà Tonino Aceti che è il presidente di Salute Equità, a cui poi chiederò all'inizio del suo intervento di precisare le caratteristiche di questa nuova associazione, Tonino Aceti lo ricorderete tutti quanti, passato da cittadinanza attiva, portavoce della FNOPI, quindi persona che ha vissuto il mondo della sanità nei vari aspetti e con i vari attori. Insieme con noi è collegato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in particolare per la Regione Europea dell'Organizzazione, Chris Brown che è la direttrice dell'ufficio di Venezia e la voce istituzionale viene portata a questo appuntamento da Stefano Russo che è il capo di segreteria tecnica del ministro Speranza. Questo è il quadro, noi andremo avanti per circa un'oretta e mezza di lavori, darei a questo punto subito la parola a Carla Collicelli che ci aiuterà ad entrare nel mondo del One Health. Grazie Antonio, grazie davvero per l'opportunità di affrontare questo tema così importante a cui sto dedicando molti sforzi in questo periodo della mia vita, tu hai avuto la gentilezza di citare le mie esperienze pregresse, vorrei partire proprio da lì con un po' di cronistoria, è già stato detto, l'hai detto tu che dobbiamo fare riferimento addirittura all'anno 78 del secolo scorso quando appunto l'OMS ha cominciato a lanciare questo tema, questi temi così importanti. Vorrei ricordare che negli anni 80 il census dove io lavoravo ha dato un contributo anche lui, anche se piccolo, al tema in quanto noi parlavamo a quell'epoca nelle nostre relazioni sulla domanda di salute del sistema psicosomato ambientale, quindi avevamo già in mente questo concetto di One Health, questo concetto di integrazione di tutto ciò che esiste sulla faccia della terra al fine di promuovere il benessere di tutti. Hai già accennato anche al 2004 quando appunto è stato coniato il termine di One Health, il concetto di One Health e questo è stato fatto a cura della Wild Conservation Society che si è spinta molto in avanti su questo terreno, ma dopo questo anno le applicazioni sono state molto limitate e molto parziali, per lo più solo applicate al mondo animale o al mondo dell'alimentazione. Dobbiamo arrivare al 2015, anno veramente cruciale per i temi che stiamo affrontando perché in questo anno abbiamo due eventi fondamentali, la agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile con i suoi 17 obiettivi che ruotano tutti intorno a questo concetto e l'enciclica di Papa Francesco laudato sì che affronta da un altro punto di vista, ovviamente con un altro background culturale, ma lo stesso tema, cioè l'importanza che si dia fine a quel processo e a quel modello che è stato chiamato il modello dell'antropocene secondo il quale l'uomo sarebbe al centro, è al centro dell'universo e quindi potrebbe in qualche modo sfruttarne le risorse, le potenzialità a suo totale vantaggio senza tener conto degli equilibri naturali. Abbiamo capito, ahimè, appunto la comprensione e la percezione di questo però è molto lenta a passare a tutti i livelli della società che così non è, così non è perché appunto se noi non riusciamo a salvaguardare, anzi se è possibile a promuovere e a migliorare l'equilibrio tra il pianeta e tutto quello che vive all'interno del pianeta, le altre specie viventi, le specie animali ma anche la parte appunto naturale, avremo grosse e drammatiche ripercussioni che toccheranno il mondo naturalmente, lo stiamo già vedendo per tantissimi aspetti ma toccheranno anche la salute delle persone e questi sono concetti che alcuni studiosi, specialisti, addetti ai lavori hanno cercato di sostenere nel tempo. Faccio un unico riferimento, nel 2019 è uscito un libricino piccolino e estremamente significativo di Ilaria Capua che si chiama Salute Circolare dove ha provato a sottolineare in una maniera veramente molto efficace dal suo punto di vista di esperta di epidemie e di virus come ci sia bisogno di una circolarità nell'ecosistema globale della nostra esistenza e dell'esistenza di tutti coloro che stanno attorno a noi altrimenti si diceva poco prima che scoppiasse la pandemia scriveva Ilaria Capua poco prima che scoppiasse la pandemia succederanno danni gravi e poi guarda caso pochissimi mesi dopo ecco che la pandemia scoppia e questo è stato come tutti abbiamo vissuto sulla nostra pelle un momento davvero drammatico, un momento che ci ha fatto però anche aprire un po' gli occhi perché comincia a essere finalmente riconosciuto anche in ambiti di vita e anche di istituzioni che prima non erano consapevoli quanto questo concetto di One Health, di salute unica, unitaria, complessiva e globale sia davvero fondamentale tant'è vero che noi abbiamo adesso nel PNRR, il piano di cui tutti in questo momento discutono, una proposta, un impegno anzi più che una semplice proposta che entro il 2022 si vari un nuovo assetto istituzionale attraverso un apposito disegno di legge centrato proprio sul principio di One Health e questo mi sembra un punto di arrivo molto molto importante, cioè finalmente se ne parla ai livelli alti, ai livelli istituzionali e infatti tra le altre cose c'è anche attualmente in discussione alla Camera ed è appena uscito dal Senato una proposta di integrazione della nostra Costituzione in due articoli 9 e 41 per tenere conto proprio di questi principi di benessere ecosistemico e quindi di One Health nel senso che abbiamo cercato di dire. Ma un altro punto molto importante vorrei sottolineare che appunto è un po' il frutto di questo lungo iter a cui ho brevemente accennato ed è il frutto anche della sofferenza e dei drammi che abbiamo vissuto a seguito della pandemia finalmente abbiamo cominciato a renderci conto che non solo la vita sul pianeta deve essere oggetto di strategie di One Health ma anche il nostro modo di pensare, di ricercare, di ragionare e di fare quindi strategie politiche è il grande tema delle interconnessioni, cioè oggigiorno buona parte di noi e finalmente vorrei dire si rende conto che se non terremo insieme le diverse discipline scientifiche della ricerca per esempio non arriveremo da nessuna parte perché è veramente difficile continuare a navigare attraverso approcci settorialmente separati schematici, divisi appunto tra diversi binari che di solito si incontrano quasi mai, si incontrano molto poco quindi connessioni e interconnessioni tra culture, discipline, ideologie, territori, parti del pianeta politiche di tutti i paesi del mondo ma anche interconnessioni tra ruolo dello Stato, della società e del mercato che devono collaborare pubblico e privato non sono più due mondi contrapposti anche cittadini e istituzioni non devono essere più due mondi contrapposti l'uno a chiedere e l'altro a dare ma ci deve essere una strategia di grande collaborazione, coproduzione come si dice oggi, coprogettazione anche a livello dei vari strati, dei vari ambiti della nostra società un ulteriore concetto fondamentale a mio avviso che fa parte di questo principio di One Health di cui stiamo discutendo oggi è il concetto di comunità perché appunto salute di tutti e benessere di tutti significa anche dover lavorare in termini promozionali ma non centrando le nostre iniziative promozionali solo sul singolo individuo né tantomeno solo sulle istituzioni sanitarie in quanto tale bisogna lavorare sulla comunità di riferimento perché se ce ne fosse stato ancora bisogno la pandemia ci ha fatto capire che se non c'è una strategia di prevenzione che lavori sulla comunità, sul contesto sociale, questo significa coinvolgimento degli antilocali mondo della cultura, scuola, tempo libero, sport, significa tantissime cose se non c'è questo approccio integrato alla vita comunitaria di tutti non ce la faremo a contrastare i vari rischi e le varie malattie che prima o poi ci verranno a toccare e forse l'ultimo concetto Antonio che vorrei brevemente sottolineare è proprio strettamente sanitario allora il quadro epidemiologico è cambiato, sta cambiando, noi parlavamo fino a pochi anni fa principalmente di doppio carico epidemiologico, il double burden of disease secondo la terminologia anglosassone perché appunto si diceva che le patologie infettive si stanno affiancando quelle cronico-degenerative e questo crea un sovraccarico e bisogna lavorare per contrastare questo secondo carico oggigiorno alla luce di quello che è successo con la pandemia e sapendo come ci si dice ormai ripetutamente che ce ne saranno anche altre di queste crisi, di queste minacce noi non abbiamo più solo un doppio carico, abbiamo un triplo, quadruplo carico per il nostro sistema della salute quindi questo ci deve spingere a ragionare in termini propositivi avanzati differenti da quelli che erano i termini che usavamo precedentemente e questo potrà avvenire anche e soprattutto vorrei aggiungere se sapremo utilizzare bene le nostre risorse nel PNRR ci sono appunto risorse come sappiamo importanti stanziate sia per la rivoluzione verde ma anche per la rivoluzione digitale quest'ultima che anch'essa è al centro del dibattito di oggi è veramente fondamentale perché solo grazie a un buon uso delle tecnologie tutti questi proponimenti, tutti questi obiettivi di cui stiamo parlando e che ho provato brevemente a riassumere potranno trovare un'effettiva realizzazione Grazie Carlo, grazie per questa introduzione di ampio respiro eppure particolarmente concreta nei tuoi riferimenti mi permetto, anzi concedimi la possibilità di usare una tua espressione perché quello che vorrei fare oggi insieme con voi è proprio passare dall'elegante riflessione come tu hai definito molte volte questo argomento a qualcosa di molto concreto che si trasformi in una serie di indicazioni e orientamenti sulle azioni concrete da portare avanti ognuno ovviamente negli ambiti di propria competenza e seguendo la strada che tu hai disegnato chiederei a Mariano Corso di approfondire il passaggio l'ultimo tuo passaggio cioè come la leva digitale diventa uno strumento fondamentale per nella concretizzazione di questo approccio globale alla salute Mariano Bene, grazie e grazie anche alla dottoressa Collicelli per questa bellissima introduzione che ci ha fatto Allora, la tesi che cercherò di esporre di argomentare in questi pochi minuti è come anticipato da Antonio Veraldi che il digitale, la digitalizzazione rappresenta oggi la leva l'opportunità che abbiamo per una transizione coerente efficace verso un modello più globale, olistico per prendersi cura della salute e questo d'altra parte è un approccio dovuto perché noi oggi viviamo un momento storico assolutamente come dire assolutamente connotato dal tema della digitalizzazione la digitalizzazione in questi anni è un grande vortice di trasformazione che sta inghiottendo ogni ambito della nostra vita direi anche ogni settore dell'economia e da questo punto di vista l'anno e mezzo ormai della pandemia non ha che accelerato ulteriormente che è un fenomeno che ci sembrava già talmente veloce e talmente esponenziale da essere difficile da affrontare ecco, utilizzando un modello che è proposto da alcuni colleghi americani che si chiama del digital vortex beh, la trasformazione digitale sta coinvolgendo progressivamente diversi ambiti dell'economia ci sono settori che sono già pienamente trasformati disrupted dalla trasformazione digitale in cui sono cambiate le regole del gioco altri, questi che presento in giallo che in realtà sono i settori che stanno adesso subendo una incredibile trasformazione digitale e infine altri ancora che si stanno avviando su cui non sono magari così ovvie imminente le trasformazioni ma che stanno avviandosi a questo percorso ecco, dove mi interessa sottolineare dov'è da questo punto di vista il mondo della salute? beh, il mondo della salute tra tutti questi settori è quello che negli ultimi anni questa è un'analisi che viene fatta ogni due anni ha avuto i maggiori incrementi siamo passati dalla versione del 2017 in cui era il penultimo tra i settori in termini di grado di digitalizzazione al 2019 in cui era stato già fatto un passo avanti e l'ultimo recentissima analisi del 2021 classifica l'health care and pharmaceuticals tra i settori di imminente digitalizzazione quindi di grande trasformazione quindi abbiamo avuto in questi ultimi 4-5 anni accelerati dalla pandemia dei fenomeni di digitalizzazione di cambiamento in questa direzione del mondo della salute impressionanti e quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che ancora non abbiamo visto niente perché l'evoluzione la convergenza di molte tecnologie ma anche di stili di consumo prima la dottoressa Collicelli faceva riferimento ad esempio all'economia circolare ebbene la convergenza l'evoluzione e la convergenza di questi trend ci porta a dire che ciò che abbiamo visto negli ultimi anni è solo un antipasto di quello che accadrà e d'altra parte se vediamo quello che sta accadendo un po' ovunque sarebbe ben strano che proprio del care non fosse tra quelle industry che vengono completamente ripensate rimodellate ma allora questo vuol dire ripensare i processi ripensare le competenze ripensare anche il rapporto tra i diversi attori noi come gruppo da alcuni anni cerchiamo di promuovere questo modello che noi chiamiamo di connected care cioè di una sanità connessa che in realtà può essere davvero un driver fondamentale per andare verso un concetto di one health avere una salute digitale connessa una gestione della salute digitale connessa vuol dire ripensare i modelli organizzativi non solo le soluzioni tecnologiche il rapporto tra i diversi attori vuol dire condividere e mettere a sistema dati informazioni vuol dire ripensare anche il ruolo tra i diversi attori proprio per avere un sistema salute più olistico più vicino alla persona più capace di ridisegnare in modo sostenibile il modello di cura e ci sono oggi tante tecnologie che già in modo maturo e convincente rendono possibile tutto questo si parla molto di telemedicina sta cambiando moltissimo stanno evolvendo i dispositivi medici e anche il ruolo che possono avere fino ad arrivare a delle vere e proprie terapie basate sul digitale c'è l'intelligenza artificiale che grazie anche a strumenti sempre più presenti nella nostra vita sta cambiando anche il modo di portare i servizi vicini vicino alle persone con gli assistenti vocali con le chatbot c'è tutto il mondo dell'internet delle cose che ci permette di rilevare dati e integrare dati che vengono anche da mondi completamente diversi dall'ambiente dall'economia dalla società e anche di interpretare i dati che sono dati sulla persona quindi quello che noi chiamiamo mobile hospital è anche un ripensamento delle strutture che perdono fisicità diventano dei sistemi super connessi e distribuiti che riescono a portare le informazioni e i servizi là dove servono anche superando tante discriminazioni e tante difficoltà in questo momento si parla tantissimo di che cosa vuol dire una piena digitalizzazione portare a termine la digitalizzazione delle strutture sanitarie ma anche quel fascicolo sanitario elettronico che permette di ripensare attorno alla persona le informazioni sulla salute e sicuramente grazie alla realtà aumentata è possibile trattare risorse che oggi sono concentrate come logicamente distribuite il tema vero è come mai cosa c'è a fronte di questa evidenza che ormai è diffusa a fronte di questa offerta convincente di tecnologie cos'è che ci manca se non ora quando abbiamo detto cioè che cos'è che limita questo switch off digitale che ahimè ancora non si vede che avrebbe aiutato tantissimo nella gestione della pandemia beh questi sono alcuni dati presi dall'osservatorio del Politecnico oggi erano le risorse economiche considerate la prima tra le barriere ma oggi se pensiamo a quello che il già citato PNRR offre parliamo di circa 16 miliardi da impiegare in tempi veloci per la digitalizzazione e ripensamento della sanità beh questo non è più il collo di bottiglia sicuramente c'è un tema di integrazione c'è un tema di diffusione della cultura c'è un tema di competenze e allora e chiudo gli ingredienti per andare in modo vero e convincente verso una salute che sia digitale e grazie al digitale possa diventare un approccio alla salute davvero globale e olistico ci sono almeno sei ingredienti su cui dobbiamo a cui dobbiamo dare una grande attenzione intanto un cambiamento culturale a volte sembra molto vago quando uno dice serve un cambiamento culturale perché non ha le idee chiare ecco in questo caso no esiste dal punto di vista anche cognitivo oggi un modello molto chiaro verso cui andare ma andarci richiede una presa d'atto una presa di consapevolezza e un'evoluzione di tutti gli attori dei sistemi di cura c'è un tema importantissimo di competenza competenze che sono colpevolmente oggi disallineate rispetto a quelle che sono le esigenze in particolare per quanto riguarda gli operatori sanitari operatori sanitari che tutti sappiamo dovranno vivere in un mondo sempre più digitalizzato ma che hanno pochissime competenze e strumenti oggi formate in modo strutturale quindi questa è una vera è una vera emergenza c'è un tema particolarmente importante da noi di frammentazione della governance non si può fare un turnaround come quello che ci aspetta senza un'orchestrazione degli sforzi da parte di tutti i livelli invece il nostro sistema è stato by design pensato frammentato e allora attraverso il digitale noi dobbiamo superare queste logiche di frammentazione i dati i dati sono veramente la chiave saper leggere interpretare informazioni e dati è quello che ci può permettere davvero di superare quelli che sono i limiti attuali le risorse vanno usate oggi vanno usate bene e quindi dovremo valutarle bene vuol dire anche diventare capaci di valutare monitorare valutare velocemente quelli che sono gli effetti delle azioni che facciamo ecco questi sono sei ingredienti fondamentali grazie ai quali il digitale potrà diventare il driver di transizione verso il modello di One Earth grazie 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 Mariano Corso anche per i tuoi stiveri che ci porteremo nel lavoro che faremo insieme ai partecipanti alla tavola rotonda chiederei sia a Carla Collicelli che a Mariano Corso di fermarsi con noi per poi riprendere il discorso in chiusura al termine della tavola rotonda intanto chiedo a Alessandro Longo che è qui vicino a me un primo commento un primo un commento però alla maniera del direttore di un agente cioè anche con uno spirito critico con una sorta di elemento pungente sì beh mi ritrovo molto in realtà positivamente in questo concetto di One Health in realtà noi viviamo già in un mondo interconnesso come ha detto Carla Collicelli serve l'interconnessione ma noi siamo già in un mondo interconnesso il Covid ce l'ha dimostrato in tutta la sua nefandezza perché sappiamo una pandemia dice la stessa parola vive di questa interconnessione ora quello che bisogna fare è rendere questa interconnessione qualcosa di positivo gestirla insomma come fare nella salute abbiamo visto che serve una collaborazione molto importante ma a tutti i livelli tra paesi ad esempio per combattere sappiamo le varianti che si stanno sviluppando questa è una collaborazione importante da fare come dice l'OMS tra ASL tra pubbliche amministrazioni pubblico e privato tra funzioni all'interno della stessa pubblica amministrazione spesso questa collaborazione è mancata non solo in salute ma anche in altri in altri ambiti della PA come abbiamo visto in questo forum PA 2021 quindi sì effettivamente come dice Mariano Corso il digitale ci offre degli strumenti ma non solo degli strumenti che sono poi sappiamo quelle dell'interoperabilità delle API eccetera eccetera ma forse ci anche offre una cultura una cultura che è quella più della collaborazione della trasparenza dell'accessibilità molto lontana e questo bisogna dirlo dalla cultura tipica della pubblica amministrazione italiana non quella di ieri ma ancora quella di oggi perché la pubblica amministrazione lo sappiamo parlando con dirigenti soprattutto quelli che lasciano la pubblica amministrazione ecco vive invece ancora una logica di orticello devo controllare il mio orticello le mie relazioni il mio gruppo di potere non posso accettare ingerenze una famosa importante integrazione interconnessione che ci serve quella tra database della pubblica amministrazione è stata ostacolata a tutti i livelli dal ministero dell'interno fino all'ultimo comune ancora viene ostacolata già dal 2012 si parlava dell'interconnessione da fare ricordi con Agostino Ragose e adesso Colau l'ha ripresa in mano e speriamo che ce la faccia almeno lui o i suoi successori quindi effettivamente bisogna superare quella logica di chiusura e come fare qui fortemente serve una politica che sia in grado di scardinare certe logiche forse servono anche altre istruzioni dall'alto per premiare chi si comporta in una maniera interconnesse permettetemi questa semplificazione e invece svantaggiare chi nella dirigenza o nelle pubbliche amministrazioni non lo fa e quindi una domanda rapidissima secondo voi qual è il passaggio concreto più urgente per entrare in questa logica di interconnessione in ogni amministrazione anche l'ultima della Pia Locale l'ultima regione l'ultima ASL grazie grazie ad Alessandro teniamoci da parte questa domanda questo riferimento grazie per aver inserito qualche puntino sulle I che erano state disegnate adesso andiamo ad aprire la tavola rotonda pregando appunto sia Carla Collicelli che Mariano Corso di ricordare questa notazione di Alessandro Longo per fornire poi a chi ci sta ascoltando la risposta apriamo la tavola rotonda vi ripresento i partecipanti della tavola rotonda Tonino Aceti Chris Brown e Stefano Lorusso partiamo da Tonino Aceti Tonino Carla Collicelli ha disegnato una traccia basata su connessioni e interconnessioni e io vedo una profonda connessione fra il concetto che stiamo trattando cioè il discorso di salute globale e il concetto la stessa Carla Collicelli ha menzionato la carta costituzionale l'eventuale intervento su alcuni degli articoli uno dei punti fondamentali del nostro sistema sanitario nazionale garantisce l'equità la tua associazione è Salute Equità possiamo fare questa connessione fra il concetto di salute globale e la messa a terra di questo concetto stesso in termini di garanzia per tutti i cittadini di equità di accesso ai servizi sanitari intanto buongiorno grazie davvero per l'invito a Forum PA assolutamente sì c'è c'è un legame un legame stretto l'approccio One Health sicuramente attuato nella forma corretta può promuovere sicuramente il tema dell'equità dell'equità di accesso alle cure equità di accesso alle cure che nel nostro servizio sanitario nazionale ovviamente rappresenta l'elemento di fragilità un elemento di fragilità e anche un elemento diciamo multisfaccettato siamo abituati a pensare a iniquità di accesso solo tra territori in realtà abbiamo iniquità di accesso alle cure anche tra condizioni patologiche tra patologie e tra pazienti tra cronici e non cronici tra pazienti covid e non covid e questa pandemia purtroppo ce l'ha messo davvero sotto gli occhi di tutti come ovviamente garantire un'equità di accesso nel nostro servizio sanitario nazionale le strade sono tante sono lunghe è un elemento è una questione davvero molto grande da affrontare in poco tempo sicuramente il tema dell'integrazione che è molto collegato al tema One Health è sicuramente un elemento fondamentale nel servizio sanitario nazionale noi siamo abituati al contrario dell'integrazione abbiamo l'approccio a silos un approccio a silos tra aree diciamo territoriali ospedaliere farmaceutica e così via protesica e così via siamo abituati a non integrare e invece dovremmo dovremmo iniziare ad integrare ad integrare molto integrare anche i professionisti sanitari integrare i dati sanitari integrare le organizzazioni sociali e sanitarie dovremmo integrare i bilanci perché noi abbiamo anche una non integrazione dei bilanci penso penso soltanto ai salti mortali che bisogna fare per garantire dei farmaci innovativi perché si fa i conti della loro sostenibilità soltanto sul fondo per i farmaci innovativi e non si garantisce e non si fa invece un ragionamento sull'impatto di quella spesa su altri settori di spesa sanitaria e non sanitaria quindi l'integrazione è l'elemento debole del servizio sanitario nazionale sul quale probabilmente bisogna lavorare e la digitalizzazione su questo è l'elemento vincente dal punto di vista un po' più diciamo stretto e tecnico diciamo ci sono alcuni elementi per garantire guida d'accesso parlo stiamo terminando il tempo a disposizione e do soltanto i titoli lavorare molto sugli standard una parola importantissima standard abbiamo lo standard degli ospedali probabilmente andrebbero un po' rivisti manca lo standard delle tecnologie non c'è non sappiamo quante tecnologie che tipo di tecnologie bisogna inserire dove in quali contesti organizzativi non abbiamo lo standard di personale oggi ad oggi purtroppo noi abbiamo regioni in piano di rientro che hanno personale che si possono permettere non quello di cui hanno bisogno ed è un paradigma profondamente diverso lo standard invece aiuta l'equità come pure standard del territorio qui c'è Stefano Lorusso so che ha molto a cuore il tema degli standard dei servizi territoriali questo è un altro elemento importante bisognerebbe lavorare su criteri di riparto del fondo diversi un po' più solidali un po' più precisi e un po' più mirati ai contesti delle regioni e territoriali bisognerebbe lavorare e mettere più attenzione sulle aree interne del paese dove c'è un'iniquità di accesso enorme e probabilmente lì anzi sicuramente lì il tema della digitalizzazione e della valorizzazione della digitalizzazione da parte dei professionisti sanitari che devono mettersi in discussione non devono avere paura del cambiamento è molto importante e poi chiudo perché ho terminato il tempo bisogna qui mi riallaccio all'ultimo intervento e questo lo faccio più dal punto di vista politico bisogna diciamo garantire un federalismo che sia un federalismo solidale tra le regioni e non un federalismo nel quale c'è una competizione continua tra le regioni la mobilità sanitaria in alcune situazioni è un indicatore di questa di questa situazione e poi dovremmo avere dall'altra parte un federalismo che non è un federalismo dell'abbandono del livello centrale nei confronti delle regioni perché alcune differenze iniquità di accesso si sono avute perché le regioni a fronte di un abbandono del livello centrale che c'è stato per un bel po' di tempo e che si è riscoperto invece come ruolo in questa fase pandemica probabilmente ha aumentato ha aumentato le differenze tra le regioni faccio soltanto un esempio e chiudo e chiudo davvero noi abbiamo insomma un ad esempio un piano nazionale della cronicità che è stato approvato cinque anni fa dalle regioni una volta approvato dalle regioni e chiuso l'intesa dallo Stato delle regioni su questo modello di presa in carico delle cronicità le regioni hanno recepito questo piano anche mettendoci formalmente quasi quattro anni nessuno ha eccepito nulla dal livello centrale non è accaduto nulla a fronte di questo e oggi dopo cinque anni noi abbiamo un piano nazionale della cronicità che non è ancora stato approvato probabilmente se avessimo fatto qualcosa in più prima della pandemia esercitando al meglio il ruolo che ha il livello centrale e meglio il ruolo che hanno le regioni probabilmente quel famoso territorio che è mancato durante la fase pandemica poteva essere sicuramente più strutturato non mi dilugo oltre e mi scuso per essere grazie grazie Donino grazie non ti ho interrotto perché mi sembrava un discorso importante cercheremo di recuperare insieme il tempo nel secondo giro però gli stimoli che hai portato anche tu sono stimoli molto concreti quindi come vedete siamo passati da una definizione di partenza abbastanza di ampio respiro stiamo scendendo sempre più nella concretezza che sta dietro al concetto di salute globale e in questa concretezza per diciamo rafforzare questa concretezza chiederei adesso aiuto a Chris Brown dell'ufficio di Venezia dell'organizzazione mondiale della sanità perché da sempre la regione europea a cui appartiene l'ufficio di Venezia ha sostenuto diciamo gli approcci di salute che puntano a definire quali sono le priorità e le condizioni per arrivare a concretizzare diciamo il concetto di salute globale e il risultato di tutto questo lavoro è il rapporto sullo stato dell'equità in salute quindi riprendiamo un po' quello che stava dicendo adesso anche Tonino Aceti e quindi chiederei a Chris Brown di raccontarci che cosa significa cioè che cos'è questo rapporto sullo stato di equità in salute quali sono i punti fondamentali del rapporto grazie Antonio e grazie anche per l'invito oggi ed avrei scelto questo molto importante soggetto tema dal nostro discorso oggi quindi sullo stato dell'equità in salute è una rassegna completa sullo stato e sulle tendenze della disuguaglianza in salute traccia una nuova strada per migliorare la salute di tutti ha tre obiettivi principali il primo è quello di cambiare il modo in cui pensiamo riguardo all'equità e dimostrare i vite reali andando oltre i numeri il secondo è quello di poter ispirare e guidare il progresso per colmare il divario nella salute tra i più e i meno ambienti portando concrete soluzioni all'attenzione dei leader dimostrare perché è importante guardare oltre il settore sanitario per creare società ed economie sane resilienti e prospere ora e per le generazioni future il rapporto si basa su due anni di analisi e di dialogo con un gran numero di stakeholder locali nazionali e internazionali per poter rispondere a una domanda chiave ovvero com'è possibile che dopo molti anni di evidenze e impegni politici a livello europeo e globale i divari sanitari sono così lenti da chiudere in alcuni casi addirittura in aumento inoltre il rapporto dimostra che migliorare la salute e il benessere di tutti contribuirebbe a maggiori benefici economici e sociali per esempio porterebbe a una maggiore stabilità fiscale a un maggiore produttività del mercato a livelli minori di esclusione sociale e quindi a un maggior senso di fiducia nella società e nelle istituzioni e infine a famiglie ed economie più resilienti agli shock tutti questi fattori sono fondamentali per la nostra sostenibilità sia ora che per le future generazioni nel nostro rapporto mostriamo che in ogni paese c'è un gradiente sociale nella salute questo significa che più la vita di una persona è sicura protetta e integrata nella società migliore è la sua salute e il suo benessere abbiamo misurato la sicurezza in termini di alloggi e condizioni di vita reddito sicurezza dei quartieri in cui si vive per esempio il tasso di criminalità violenta ma anche l'accesso a strutture di vicinato le condizioni di lavoro e qualità e accesso ai servizi sanitari in questa analisi abbiamo trovato alcuni risultati molto sorprendenti per esempio abbiamo notato che nella regione europea dell'OMS il doppio delle donne e degli uomini che rientrano nel 20% dei meno abbienti vive con una malattia che limita la partecipazione all'attività quotidiane queste diseguaglianze sono rimaste in gran parte invariate nell'ultimo decennio queste persone sono ad alto rischio di povertà ed esclusione sociale e nel rapporto dimostriamo come questo incide non solo sulle opportunità di vivere una vita familiare e domestica ma anche a livello più ampio sulla produttività complessiva di un paese e sulla sua sostenibilità fiscale dovuta al precace abbandono del mercato all'impatto sulla base imponibile sulle pensioni e sui costi di assistenza sociale in parole povere se abbandoniamo una grande percentuale di persone per via della loro povera salute non potremo mai andare avanti e costruire una società sicura e prospera la resilienza dei nostri sistemi pubblici continuerà a risentire di questa forte pressione in fiori assurdo brevemente ciò che c'è nel rapporto ma il lavoro fa parte di una più ampia iniziativa la Health Equity Status Report Initiative che connette i policymaker con le soluzioni necessarie a garantire una vita sana e prospera per tutti di questo parlerò più tardi ma vorrei terminare questo intervento con una riflessione nel nostro rapporto abbiamo fatto una valutazione dell'opinione pubblica europea e l'80% del pubblico dice che la riduzione delle disuguaglianze dovrebbe essere in cima all'agenda dei loro governi grazie grazie a Chris Brown si riprenderemo nel dettaglio quanto esposto in questo primo intervento perché gli elementi che sono contenuti in rapporto sono particolarmente interessanti come vedete stiamo procedendo un po' nel percorso rispettando le tracce che aveva definito i punti che aveva definito Carla Collicelli cioè connessioni interconnessioni e sta venendo fuori in maniera estremamente importante il tema della comunità cioè come siamo o abbiamo necessità se volete io condivido questo approccio lo condivido veramente con forte convinzione il passaggio di un sistema che vede il paziente al centro ne abbiamo fatto uno slogan per tanti anni a una logica di sistema sanitario che vede l'interlocuzione con la comunità e con il territorio e ovviamente a questo punto è utilissimo l'interlocuzione con il dottor Lorusso che dal ministero segue diciamo le linee programmatiche One Health è entrato dottor Lorusso nelle linee programmatiche degli assi fondamentali della politica del ministro e del ministero riesce ci aiuta a comprendere come questo concetto di One Health viene calato può essere calato nella realtà concreta lo sforzo che stiamo facendo questa mattina cioè calare concretamente questo concetto così ampio nel sistema sanitario tenendo conto è stato detto da più dei nostri relatori dello scenario del PNR e poi soprattutto anche una prospettiva futura perché a quanto risulta a me il concetto di One Health sarà legato anche al G20 che si sarà poi in autunno qui in Italia sì salve buongiorno a tutti devo dire che il titolo della giornata mi sembrava in linea proprio con l'impostazione sia del PNRR che del G20 io cercherò di essere breve perché le due domande sono abbastanza complesse non riuscirò sicuramente a esaurirle nei quattro minuti proverò però a dare qualche indicazione su come l'approccio One Health sia stato l'approccio che ha guidato la definizione del PNRR noi come sanno tutti abbiamo presentato 20 progetti per un valore superiore ai 64 miliardi che affrontavano in maniera olistica il tema del One Health ed era la traccia ovviamente la disponibilità effettiva delle risorse ci ha indotto a fare delle scelte che però hanno tenuto conto proprio dei temi che accennava pure sia il professore all'inizio che Tonino che la ricercatrice la processa in questo breve intervento che ha fatto cioè l'equità la povertà sanitaria la cronicità e se volessi proprio rappresentare graficamente il PNRR anche alla luce delle considerazioni che faceva lei introducendo il mio intervento mi viene davvero come pensarlo in termini di una serie di cerchi concentrici al cui centro c'è la persona ma c'è anche la comunità perché si parla molto di questo PNRR in termini di prossimità ma devo dire che un'altra parola chiave per comprendere la logica che c'è dietro al PNRR è appunto la parola comunità che insomma ben si integra con le considerazioni che abbiamo fatto e volendo mantenere questa rappresentazione grafica al primo centro c'è sicuramente la casa come primo luogo di cura e quindi l'assistenza domiciliare le centrali operative per il transitional care sia verso le cure intermedie che le cure domiciliari e su questa linea c'è addirittura un miliardo che aiuterà a finanziare i progetti di telemedicina a livello regionale il secondo livello che accoglie la comunità è appunto la casa della comunità che è l'accesso noi lo immaginiamo come l'accesso unico integrato ai servizi sociosanitari il luogo della medicina d'iniziativa e soprattutto il luogo dell'integrazione con il sociale il luogo della partecipazione delle comunità ai processi di service design ai processi di audit civico il luogo anche dove valorizzare la co-production degli utenti è un'evoluzione rispetto alle migliori pratiche che oggi ci sono in alcune regioni che sono chiamate insomma come casa della salute ovviamente il luogo delle cure primarie quindi sono veramente tanti gli aspetti il terzo cerchio cerco di andare veloce perché mi piace questo là che mi ha dato sulla rappresentazione del PNR intorno alla persona e alla comunità il terzo cerchio è sicuramente l'ospedale di comunità che è il potenziamento altro che delle cure intermedie quindi quel ponte che aiuterà gli ospedali nel diciamo di mettere persone già stabilizzate oppure persone che sono in assistenza domiciliare che però richiedono un intervento diciamo sanitario un po' più compiuto in strutture gestite a prevalenza già gestione infermieristica con un'assistenza diciamo del medico programmata ma che sono vicini alle comunità all'interno delle comunità e permettetemi di dire che questo è un aspetto molto importante perché è un potenziamento di un voto che è stato percepito da molte comunità in base di applicazione del DM70 il terzo il terzo cerchio il quarto è sicuramente la rete ospedaliera si è fatta una scelta sia di interventi antisismiche rispetto alla rete ospedaliera ma è di diciamo di potenziamento infrastrutturale il quinto cerchio come mi piace immaginarlo è un po' quello che è stato detto la transizione digitale sul PNRR di questi famosi 20 miliardi ben oltre 4 miliardi sono destinati in maniera precisa alla transizione digitale del servizio sanitario che significa modernare gli asset tecnologici in dotazione presso le strutture ospedaliere sostituendo il parco delle grandi apparecchiature ma significa digitalizzare i processi clinico-assistenziali legati ai dipartimenti di emergenza significa definire standard qualitativi e tecnologici minimi per il fascicolo un grande investimento che è previsto è proprio il potenziamento del fascicolo in un'ottica anche nuova che garantisca prima la definizione di un riposito rinazionale e conseguentemente il potenziamento anche dell'interoperabilità io ho fatto il direttore ho lavorato comunque in varie regioni e purtroppo questo concetto di fascicolo è un concetto su cui bisogna investire perché è la base ma come si cambia l'approccio soprattutto immaginando che i dati che popolano questo fascicolo siano dati in attivi digitali e questo è il presupposto per uno sviluppo anche un rafforzamento dell'attività di programmazione a cui richiamava Tonino nel suo intervento del Ministero della Salute infatti nel PNR ci sono proprio degli interventi legati al potenziamento del Ministro della Salute al rafforzamento dell'ennesis al rafforzamento alla definizione di modelli predittivi alla creazione di una piattaforma open data e alla definizione anche di un marketplace per la telemedicina il sesto cerchio è proprio il sesto cerchio attiene l'ecosistema della salute quindi un approccio della salute secondo un approccio di filiera ricerca abandi pandemie ab life science formazione l'ultimo cerchio è appunto salute ambiente e clima che per la verità è un progetto che è finanziato in termini economici dal PNC e non dal recovery quindi dalla programmazione complementare ma è un progetto per noi molto importante perché oltre alla riforma a cui facevate riferimento all'inizio quindi la definizione di un assetto nazionale nuovo di salute ambiente e clima che significa in sostanza mettere in rete al sistema le ASL le APA gli istituti isoprofilattici l'istituto superiore di sanità l'ISPRA ha come obiettivi anche lo sviluppo di promuovere lo sviluppo di conoscenze finalizzate appunto all'integrazione delle competenze tra gli operatori e proprio nell'ottica della salute dell'ambiente della sorveglianza epidemiologica della valutazione penso ai temi della valutazione dell'impatto sanitario all'interno del progetto ci sono dei progetti di cosiddetta sanità ecologica ovvero dei programmi di sanità integrata in due aree specifiche in due SIN quindi è del tutto evidente che con questa rappresentazione sintetica che ho provato a dare è l'approccio che ha seguito la definizione dei contenuti e delle linee progettuali che oggi ritroviamo nel PNRR nella programmazione complementare e nel ReactU che sono le tre anime che costituiscono diciamo le risorse a disposizione del Ministero della Salute a cui poi per la verità si aggiungono anche circa il miliardo e mezzo della missione 5 sulla Complem 2 che è una linea progettuale che vede fortemente impegnato il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Sociali è stata scritta insieme ed è una linea che va nella direzione dell'integrazione sociosanitaria a cui facevo veramente brevemente riferimento nel quanto parlavo di casa della comunità Grazie Dottor Lorusso riprenderemo tutti questi temi grazie per ovviamente aver dato un quadro così concreto riprenderemo comunque nel secondo giro torniamo velocemente su Tonino Aceti Tonino diciamo è venuto fuori in questa traccia che gli investimenti sono fondamentali in sanità per garantire una crescita inclusiva lo diceva adesso anche il Dottor Lorusso quindi dal tuo punto di vista quali sono dal tuo osservatorio quali sono le priorità che devono essere definite per il sistema sanitario nazionale priorità di investimento che portano ovviamente atterriamo tutti sul concetto di equità ti chiederei solo di essere rigoroso con i tempi sì allora andrò per per messaggi per messaggi chiavi gli investimenti allora intanto prima di tutto bisogna garantire investimenti per digitalizzare il sistema in tutte le aree del paese far dialogare i dati far dialogare le amministrazioni far dialogare i professionisti far dialogare i professionisti le amministrazioni e i cittadini bisogna integrare quindi investimenti che abbiano come fine l'integrazione perché l'integrazione è sicuramente un'ottima un ottimo strumento per per garantire equità di accesso eh alle cure eh tra territori eh diversi del nostro del nostro paese quindi mi muoverei in questa in questa situazione in questa in questa direzione eh gli altri gli altri investimenti ovviamente sono investimenti eh sul personale come come ho detto perché noi abbiamo perso in dieci anni eh quarantaduemila unità eh di personale in ambito sanitario e abbiamo una eh una forbice eh tra disponibilità di personale sanitario tra le regioni eh che è mostruosa noi abbiamo eh circa eh undici unità eh di personale per mille abitanti in Valle d'Aosta contro le sei unità di personale eh diciamo all'interno della regione campania se è unità per mille abitanti della regione campania quindi sicuramente il personale è un altro è un altro ambito sul quale bisognerebbe bisognerebbe investire bisognerebbe investire per a sul tema delle competenze per livellare a rialzo le competenze che servono a gestire la salute delle persone quindi eh diretta ai professionisti ma anche perché non abbiamo eh sul territorio nazionale lo stesso livello di competenza eh alcune regioni sono state abbandonate da questo punto di vista e e la mobilità eh ce lo spiega ma anche le competenze però di chi amministra perché badate bene la regione Emilia Romagna e la regione Calabria tutte e due devono eh guidare fondamentalmente una macchina ultra veloce non dico le marche eh però eh il pilota che c'è a bordo è profondamente diverso e e quindi investimenti anche per garantire una un livello di competenze nella capacità di amministrazione e gestione della sanità eh è fondamentale eh il fatto che dei 500 milioni di euro stanziati l'anno scorso eh nel decreto agosto per recuperare le liste d'attesa che si erano accumulate durante il lockdown siano stati spesi eh questo ci dice la Corte dei Conti non siano stati spesi il 67% di questi soldi allocati eh con una differenza che è enorme che va dal 97% dell'Italia meridionale al 45% del 150% del nord vuol dire che anche nella capacità di spesa di progettazione di realizzazione delle cose c'è una grande forbice nel nostro paese che bisogna livellare livellare facendo investimenti sulla sulle competenze e poi le competenze anche dei cittadini perché bisogna anche eh dare la possibilità al cittadino di utilizzare tutte le opportunità tecnologiche che la sanità di oggi mette a disposizione grazie grazie tu hai sollevato il velo su due aspetti estremamente importanti il primo è quello dell'alfabetizzazione sui due poli sia per quello che riguarda i professionisti sanitari sia per quello che riguarda i cittadini cioè la diffusione della sanità digitale identifichiamola così adesso o dell'approccio globale che usa la leva digitale ha bisogno che i due poli si tocchino perfettamente cioè che si corrispondano da questo punto di vista altrimenti si procede come come una natazoppa prendendo una metafora il secondo punto che probabilmente potrebbe poi sviluppare anche il dottor Lorusso è quello del management pubblico cioè le nostre aziende sanitarie ma anche le nostre regioni hanno effettivamente bisogno di far crescere il management in termini di visioni competenze che poi si trasformano in azioni grazie a Tonino Aceti torno da Chris Brown per completare il discorso sul rapporto perché ci eravamo fermati al punto di andare ad identificare le priorità su cui si deve intervenire dal punto di vista delle politiche pubbliche per garantire diritti per evitare l'aumento della disuguaglianza Chris ti chiederei a questo punto di scendere un po' nel dettaglio e dirci quali sono le condizioni che voi avete analizzato nel vostro rapporto e che sono determinanti per evitare questo effetto di disuguaglianze all'interno dei singoli paesi grazie Antonio quando parliamo di cosa bisogna fare dobbiamo indubbiamente parlare di nuovi ruoli per il settore sanitario lo Stato e i trend della salute sono indubbiamente utili a capire quale tipo di azioni priorizzare tuttavia questo è utile solo quando siamo in grado di capire quali sono i fattori che portano alle disuguaglianze in termini di aspettative di vita malattie debilitanti povera salute mentale e benessere tramite il nostro lavoro abbiamo imparato che esistono cinque condizioni alla disuguaglianza di salute essenziali che hanno un impatto sulla percezione della salute infatti il 10% è dovuto alla disuguaglianza all'accesso e alla qualità dei servizi sanitari il 35% è dovuto all'insicurezza del reddito e l'impossibilità di arrivare a fine mese il 29% è dovuto alle condizioni di vita come l'occupazione di alloggi insicuri e di scarsa qualità ma anche il fatto di vivere in quartieri pericolosi e con pochi servizi il 19% è dovuto dalla mancanza di autodeterminazione e di fiducia nella comunità inoltre allo scarsa accesso a una buona educazione infine il 7% è dovuto a differenze nell'occupazione e nelle condizioni di lavoro questo vuol dire che l'83% della disuguaglianza della salute è dovuta a tre fattori povertà condizioni di vita e capitale sociale e umano le persone che abitano in quartieri pericolosi dove le famiglie vengono esposte a violenza e crimine e non hanno qualcuno a cui chiedere aiuto sono quelle più a rischio si tratta di fattori che sono determinati da politiche sociali economiche ambientali e sono aggravati da interessi commerciali su prezzi disponibilità e accesso se guardiamo ai livelli di investimento e alle politiche attuate a diminuire queste disuguaglianze in Europa negli ultimi 15 anni notiamo che i pagamenti sanitari di tasca propria sono rimasti uguali o addirittura cresciuti nel 60% dei paesi il 53% dei paesi ha disinvestito in alloggi e strutture comunitarie il 65% dei paesi ha aumentato gli investimenti ma la maggior parte degli investimenti sono andati alle regioni e alle città più ricche il 50% di tutti i nuovi lavori che sono stati creati dal 2008 sono precari e l'80% di questi impiegano le persone che appartengono al quintile di reddito più basso la spesa per la protezione sociale è diminuita del 50% in 4 paesi nei rimanenti 44 paesi è aumentata del 2% tuttavia sono aumentate anche le condizionalità per l'accesso alla protezione sociale possiamo fare la differenza prioritizzando investimenti in politiche universali chiave per esempio un investimento di solo lo 0,1% del PIL in protezione sociale che include anche la protezione sanitaria politiche di mercato del lavoro o alloggi e servizi per la comunità ridurrebbe le disuguaglianze della salute in soli 4 anni questo equivale a 250.000 vite migliorate in un paese con una popolazione di 60 milioni di abitanti abbiamo anche visto che disuguaglianze in reddito e condizioni di lavoro sono il fattore determinante per quasi il 50% delle disuguaglianze della salute durante la crisi finanziaria del 2008 l'Unione Europea ha deregolamentato le condizioni di occupazione questo è stato fatto per stimolare l'occupazione e la ripresa del mercato tuttavia il 50% di tutti i nuovi posti di lavoro creati sono stati temporanei a bassa retribuzione e insicuri questo vuol dire che mentre il numero di posti di lavoro è aumentato sono aumentate anche le disuguaglianze nella salute mentale oggi questo problema costa ai paesi dell'Unione Europea più del 4% del PIL mentre i costi totali della depressione sull'Unione Europea sono stimati a 136 miliardi di euro per queste ragioni i paesi guidati dalla Finlandia durante la sua presidenza dell'Unione Europea nel 2018 stanno facendo avanzare l'economia del benessere ovvero la well-being economy mettendo la salute e l'equità al centro di tutte le politiche e gli investimenti fiscali e di sviluppo anche qui in Italia c'è una grande iniziativa dell'ufficio del presidente che sta portando avanti questo nuovo approccio a livello locale i servizi pubblici come ospedali scuole e biblioteche possono avere grandi impatti sul benessere e sulle opportunità di vita e sulla resilienza ed equità economica e sociale di una comunità possono farlo attraverso pratiche di formazione di occupazione e di acquisto socialmente responsabili queste istituzioni possono essere chiamate ancore per esempio in una città o in una regione di 3 milioni di abitanti nel Regno Unito un riallocamento del 10% della spesa totale di 10 ancore verso fornitori locali può contribuire alla generazione di 168 milioni di sterline all'anno sull'economia locale questo approccio ha sostenuto migliori posti di lavoro riducendo la povertà aumentando il capitale umano e creando un senso di ispiranza e di fiducia e sicurezza nella comunità locale riducendo anche le disuguaglianze in termini di salute mentale per finire ci sono tre piste complementari che possiamo prendere per ridurre le disuguaglianze la prima è quella di investire nelle condizioni essenziali necessarie per poter vivere una vita sana la seconda è quella di attuare politiche universali progressive e la terza è quella di incentivare la crescita e lo sviluppo che diminuisce le disuguaglianze nella salute e nelle opportunità di vita spero di essere stata in grado di evidenziare alcune di queste priorità oggi e come questo viene realizzato in pratica grazie grazie Chris sì il quadro è estremamente dettagliato in parte impressionante ma ci sono delle luci perché tu definisci anche quelle che possono essere le strade dottor Lorusso mi ha colpito in questo passaggio di Chris Brown un riferimento alla fiducia che poi è diciamo lo sforzo che sta dietro al PNRR quindi proviamo a coniugare diciamo tutto quello che sta emergendo dal nostro dibattito in questa logica cioè lo strumento le risorse che abbiamo l'obiettivo che è quello di restituire fiducia a una comunità che è un concetto che è uscito attraverso delle connessioni che stabiliscono un sistema che si parla e quindi non abbandona non lascia il cittadino adesso facciamo il caso della salute nel momento questo anche perché lei viene appunto come diceva nell'intervento precedente dal territorio cioè ha lavorato nelle aziende sanitarie quindi sa qual è il bisogno proviamo a creare questo link cioè dal punto di vista della programmazione quali sono gli interventi che sono dentro il PNR che possono restituire fiducia al nostro sistema e mettere benzina nella macchina intanto penso di averla tradotta bene lei ha parlato di ancore mi è piaciuta molto quando ha fatto quel passaggio ho trovato veramente molto in linea queste considerazioni che ho sentito rispetto all'impostazione complessiva io poi vorrei dire che il tema ad esempio della povertà sanitaria dell'Arturic sarà il tema su cui noi ci stiamo concentrando per la definizione sarà speriamo un programma operativo nazionale salute o comunque saranno delle risorse all'interno di un altro PON con il quale noi vogliamo proprio andare ad incidere significativamente su quelle regioni che sono caratterizzate da un'erogazione dei LEA con livelli qualitativi più bassi proprio sui temi che venivano evidenziati nell'intervento che mi ha preceduto cioè la povertà sanitaria quindi il legame rispetto alla deprivazione il tema della salute mentale non è stato detto o comunque forse non l'ho accorto anche il tema della medicina di genere quindi l'idea della casa della comunità dell'ADI in particolar modo della casa della comunità mi piace molto creare quella sinergia col concetto di ancora anche se diciamo la dottoressa l'ha contestualizzato in maniera un po' diversa quello che dice lei è fondamentale lo diceva Tonino con cui come al solito sono molto in accordo con le sue considerazioni io credo che la condizione abilitante per questo pacchetto di investimenti che io in pochi minuti ho provato a descrivere velocemente sia proprio una delle tre riforme che è previsto nel recovery che veniva tra l'altro richiamato anche dall'intervento del professore all'inizio quando parlava di transizione digitale e faceva riferimento a un modello organizzativo io ecco questa cosa è una cosa a cui tengo particolarmente e anche in qualità di presidente della cabina che sta coordinando i lavori è il mio diciamo personale ma anche ovviamente del ministro primo obiettivo cioè la definizione di un modello organizzativo attraverso l'individuazione di standard qualitativi organizzativi e tecnologici che rendano chiaro e restituiscono una metrica chiara al territorio per me questo è un aspetto fondamentale che noi oggi abbiamo vissuto nel passato nella sanità il DM70 che ha avuto un impatto dal mio punto di vista molto importante perché ha definito le reti tempo dipendenti secondo una logica a bespocca ha definito volumi esiti in termini di risk management il tema che però è stato percepito come una diciamo riduzione dei servizi sanitari perché perché non è stato contestualmente affrontato il tema del territorio ecco io credo che quella sfida di definire questi standard che significa definire un modello organizzativo che tiene in linea e integri l'ospedale col territorio ovviamente con la prevenzione e con il sociale sia la vera sfida e questo è un obiettivo che tra l'altro è ben chiarito nel PNRR e ha come timeline e se non ricordo male il primo o il secondo trimestre del 2022 e dal mio punto di vista è la vera sfida voglio essere chiaro noi oggi valutiamo molto gli ospedali abbiamo un piano esiti che ci racconta molto degli ospedali ma abbiamo difficoltà a valutare in maniera diciamo altrettanto puntuale in termini di efficacia di outcome il territorio per farlo abbiamo bisogno di definire una metrica abbiamo bisogno di definire un modello che spieghi come i diversi oggetti i diversi strumenti interagiscono tra di loro e in questo io credo che il distretto debba finalmente assurgere la figura chiave all'interno del progetto di riforma e avrà a disposizione due importanti luoghi per integrare la casa della comunità e la centrale operativa a cui facevo riferimento perché prossimità non è solo arrivare con i servizi a casa ma è consentire a tutti i cittadini di interagire l'avete ricordato tante volte col servizio sanitario in maniera intelligente in maniera innovativa attraverso una semplice app il successo diciamo permetto di dire del Green Pass che si sta registrando in questi in questi giorni è già una piccola dimostrazione di come si può lavorare in questa in quest'ottica e ovviamente diciamo mi diceva quando ho chiuso l'intervento il tema della formazione centrale all'interno del PNRR è previsto proprio l'idea di immaginare un progetto un programma oltre a un grande programma di formazione rivolto a 300 mila operatori che sarà gestito a livello regionale c'è un programma di circa 20 milioni che sarà gestito a livello ministero proprio rivolto a tutti gli operatori con responsabilità proprio nell'ottica di favorire la transizione digitale di favorire di immaginare un ruolo diverso ai direttori distretto al middle management comunque a percorsi e a competenze manageriali trasversali grazie dottore grazie sì sono tutti elementi che diciamo come ha detto il lavoro che avevamo analizzato ma che lei ci ha riassunto e ci ha messo in fila e questo ci aiuta molto adesso chiederei un primo commento chiedendo a Carla Collicelli e a Mariano Corso di lavorare per usare diciamo i minuti che ci rimangono per una breve sintesi di tutti i contributi estremamente interessanti che ci sono arrivati chiederei a Alessandro Longo una prima sintesi no chiedendoti di appunto anche in questo caso mettere qualche puntino sulla I sì beh il PNRR effettivamente contiene già diciamo la verità quei concetti base che noi avremmo voluto noi io gli esperti Mariano Corso tu avremmo già voluto avere già molti governi fa la ricetta la conosciamo tutti Mariano anche ripetuta l'interconnessione le competenze non solo le risorse insomma il cambio culturale il cambio di governance la ricetta la conosciamo già da tempo il Covid è stato sì una discontinuità giustamente come ha detto lo russo il Green Pass è un segnale di successo forse lo dobbiamo al Covid e come il Green Pass un po' rappresenta quella che dovrebbe essere la sanità normale in Italia una sanità integrata dove tutti i diversi tasselli si parlano i database si integrano centralmente le ASL i centri vaccinali le regioni i medici di famiglia i farmacisti eccetera per poi dare al cittadino un servizio davvero chiave in mano senza grattacapi che già ce ne sono abbastanza in questo periodo ce ne sono stati soprattutto e quindi insomma quel modello di sanità integrata che però dovrebbe essere la norma e che dovrebbe poi realizzarsi ovunque e il fascicolo sanitario elettronico dovrebbe essere da tempo ancora molto prima della pandemia un esempio di questa integrazione che però non abbiamo ancora ecco solo in alcune regioni ce lo ricorda l'osservatorio del Politecnico di Milano in alcune regioni mi pare 4 funziona al 100% sia alimentata da tutte le ASL ci sono alcune regioni come la Calabria la prima che mi viene in mente che assolutamente non sta alimentando e altre che lo fanno al 50% come la Puglia insomma un esempio perché sono vengo dalla Puglia e quindi effettivamente noi abbiamo imparato molto dal Covid ma non possiamo permetterci un'altra pandemia per fare un altro passo avanti importante come quello del Green Pass o meglio quando arriverà come dicono tutti gli esperti la prossima pandemia la affronteremo meglio anche perché avremo imparato a integrare i sistemi avremo imparato a integrare gli elementi del territorio con il centro avremo imparato a integrare e interconnettere meglio i paesi anche tra di loro e quindi come uscirne beh questa è la domanda principale nel senso che noi vorremmo che il Green Pass no insomma parlo come esperti ma penso che voi stiate d'accordo il Green Pass questo bel esempio che abbiamo dato in mano ai cittadini non resti un'alba irripetibile nella storia dell'Italia che l'Italia purtroppo a volte ha questi scatti in avanti ma poi se ne dimentica ecco ma poi si è applicato come modello anche al fascicolo sanitario elettronico perché se saremo in grado di avere un fascicolo sanitario elettronico integrato vorrà dire che abbiamo integrato anche tutto il resto e quindi con vantaggio a cascata su tutti i servizi associati ecco questo molto brevemente grazie Alessandro grazie di questi contributi invito tutti poi a diciamo seguire gli approfondimenti che Alessandro porterà Alessandro Longo porterà all'interno di agendadigitale.eu che soprattutto per il tema della trasformazione digitale è sicuramente un punto di riferimento per tutti noi addetti ai lavori ci prepariamo alle conclusioni però prima di arrivare alle conclusioni in ossequio al concetto di salute globale e quindi che abbiamo affrontato questa mattina e alla logica più volte ribadita delle connessioni della comunità consentitemi di ringraziare le colleghe Barbara Izzo e Sara Civello che sono in regia che hanno permesso la realizzazione di questo lavoro nella modalità digitale che in questo momento ci è consentita e di allargare il ringraziamento a tutti i tecnici che lavorano nel back office nel backstage scusate per essere più precisi e che consentono ovviamente di superare tutte le difficoltà che la tecnologia matura comunque ci presenta nel senso che realizzare un'ora e mezza di lavoro in questa modalità sembra facile in realtà dietro c'è un lavoro di tanta e tanta gente Carla Collicelli hai aperto è poi passato un'ora e mezza gli stimoli sono stati tantissimi quindi non invidio diciamo il tuo il tuo compito di provare poi insieme con Mariano anche a sintetizzare cioè a far sì che qualcosa rimanga a chi è stato con noi per un'ora e mezza cioè che cosa si portano a casa le persone che ci hanno seguito ecco dici bene non ci provo nemmeno a sintetizzare o a tentare una conclusione vorrei però lanciare alcuni messaggi che spero vengano ascoltati e recepiti sia dai partecipanti della tavola rotonda e da tutti gli intervenuti di oggi sia da tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono dei messaggi che vogliono rappresentare come dire dei pericoli e dei rischi che dobbiamo assolutamente evitare di correre in questo processo che stiamo seguendo e di cui stiamo discutendo oggi allora la prima cosa che mi veniva in mente ascoltando in particolare il professor Corso e Alessandro Longo tutti avrete sentito parlare di greenwashing cioè il movimento ambientalista e le iniziative e le politiche per appunto l'ambiente e il clima spesso corrono e stanno correndo questo terribile pericolo cioè di fare delle operazioni di facciata che poi non incidono realmente sulla qualità delle cose che si vanno a toccare mi auguro che non succeda la stessa cosa con gli investimenti molto importanti che stiamo per avviare nel settore digitale che non ci sia un digital washing cioè che non ci sia investimenti che producono sostanzialmente sì lavoro ma in forma autoreferenziale senza raggiungere quegli obiettivi di cui stiamo discutendo cioè davvero realizzare un benessere ecosistemico davvero lavorare per un approccio One Health davvero lavorare per la giustizia sociale per il benessere di tutti per la riduzione delle diseguaglianze la battaglia che stiamo cercando di fare come ASVIS al Parlamento rispetto a quegli articoli della Costituzione che vi dicevo va un po' in questa direzione perché la formulazione che è attualmente in discussione è a nostro avviso assolutamente riduttiva e rischia appunto di mettere un un fiore all'occhiello ma di non cambiare le cose la seconda osservazione secondo rischio che secondo me corriamo è quello di non riuscire a scalfire i problemi della governance vi facevano riferimento un po' tutti ma in particolare il dottor Lorusso è un tema cruciale in Italia se non saremo capaci di impostare una nuova governance multilivello dove i vari livelli davvero possano interagire in maniera positiva funzionale che dia valore aggiunto e non che ostacoli come tutti i giorni purtroppo come cittadini ma anche come ricercatori dobbiamo constatare se non riusciremo a fare questo avremo perso la battaglia sia del One Health che della rivoluzione digitale che di ogni altra cosa a dire il vero e quindi sono molto curiosa di vedere come il coordinamento ministeriale cui accennava il dottor Lorusso ma più in generale la cabina di regia complessiva che dovrebbe se ho ben capito comprendere i rappresentanti di tutti i ministeri riusciranno a scalfire questo che è uno dei mali principali dell'Italia cioè una burocrazia pletorica ma soprattutto che non comunica che non è capace di collaborare di interagire e che crea solo problemi ai cittadini il terzo grande problema che volevo sottolineare che è stato lanciato da molti ma in particolare da Ceti e da Chris Brown è quello dell'equità della giustizia redistributiva della lotta le disuguaglianze non ci potrà essere né salute globale né benessere collettivo né sviluppo sostenibile né niente di positivo se non mettiamo al centro proprio questa questione cioè come lavorare per un equilibrio per una giustizia intergenerazionale per una giustizia di genere per una giustizia nei confronti dei segmenti di popolazione più fragili e nel mondo del lavoro non dimentichiamo quanti morti ancora abbiamo in Italia per incidenti sul lavoro questa realtà deve fare parte a pieno titolo di tutto quello che andiamo a fare sia per gli investimenti digitali che per gli investimenti ecologici e per ogni altro sforzo che abbiamo messo nel PNRR l'ultima cosa vorrei dire siccome io mi occupo personalmente sia in ASVIS che in CNEL del monitoraggio dell'attuazione del PNRR mi auguro che questa nostra discussione di oggi possa preludere a una maggiore collaborazione tra tutti noi su questo quindi lancio un messaggio sia al dottor Lorusso ma a tutti gli altri colleghi che sono qui rappresentati per fare in modo che di nuovo anche qui non si lavori per compartimenti stagni per cui un'istituzione dice una cosa e un'altra istituzione ne dice un'altra ma perché ci possa essere un raccordo un tavolo di collegamento e di connessione abbiamo parlato tanto di connessione in questo caso collegamento interistituzionale e interscientifico tra tutti quelli che sono interessati davvero a raggiungere i risultati di cui abbiamo parlato grazie Carla mi vedo costretto a raccogliere subito la palla che tu hai lanciato nel senso che mi candido come Forum PA proprio in previsione anche dell'appuntamento di Forum PA Sanità che potrebbe essere il primo punto di arrivo e di verifica di quello che stiamo dicendo mi candido a fare da raccordo e da stimolo fra tutte le persone in modo che questa tua sollecitazione abbia un'attuazione concreta pratica e concreta particolarmente visibile Mariano credo che possiamo accogliere questo invito anche come gruppo da parte di Carla Collicelli giusto? Assolutamente assolutamente beh Antonio io credo che il miglior modo per tentare almeno di dare una sintesi di questa interessante discussione sia riprendere la domanda anzi le domande di Alessandro Longo cioè sostanzialmente se siamo d'accordo sul su quella che è la diagnosi del problema è adesso da cosa partiamo da cosa partiamo in questo momento che è un momento come ci siamo detti assolutamente fondamentale beh io partirei per quello che ho sentito diciamo mi sono ulteriormente convinto di questo partirei dalla cultura da una cultura condivisa del dato e delle informazioni della misura insomma è possibile che in uno dei settori in cui nella ricerca nella pratica clinica si fa l'uso più avanzato dei dati delle evidenze parliamo tanto di evidence based beh non si sia davvero in grado di mettersi attorno a un tavolo e di basarsi su dati condivisi per governare il sistema e gli investimenti io credo che la pandemia ci abbia insegnato ci abbia dato tre lezioni drammatiche che non dobbiamo non dobbiamo perdere la prima è la nostra incapacità di leggere interpretare i dati dando loro un significato coerente adesso non voglio entrare troppo nel merito ma gli stessi dati sulla pandemia ci hanno dimostrato quanto carente sia la capacità in un modello frammentato di governance di dare ai dati un significato comune e nel ripensare alla defragmentazione della governance io credo che il primo passo sia proprio quello di una cominciamo a fare un'integrazione a darci standard di significato sul dato il secondo riguarda sempre questa cultura della misura è la programmazione delle risorse degli investimenti in particolare quelle incompetenze in professionalità insomma è diventato evidente come in questi anni tutto il nostro sforzo di programmazione sia stato basato più su una disponibilità convenzionale di risorse e sugli interessi poi particolari che non in realtà sulle esigenze e sulla domanda di cura ma le esigenze e la domanda di cura non erano poi nel mondo della sanità non sono poi così difficili poi ci sono le epidemie che possono accadere ma di per sé la domanda di cura e la trasformazione della domanda di cura è qualcosa che noi sappiamo dovremmo saper prevedere allora in base a questo dobbiamo programmare le risorse a me sta particolarmente a cuore ad esempio tutto l'investimento nelle competenze nelle nuove competenze degli operatori sanitari il terzo elemento e qui riprendo quello che diceva Carla Colluccelli la valutazione degli interventi oggi va fatta sempre nel rispetto di questa cultura dell'onestà intellettuale della misura va fatta andando a tenere conto di quelle che sono le interconnessioni non solo nel sistema salute che è un sistema estremamente interconnesso e quindi quelle che sono delle disuguaglianze poi a un certo punto diventano un problema per tutti ma anche e questo è un altro drammatico insegnamento nelle quelle che sono le interconnessioni tra il sistema salute e il sistema economico il sistema sociale il sistema territoriale il sistema ambientale ecco il PNRR non può che essere il punto di svolta cioè mi viene evidentemente salgono brividi di freddo pensando a questo tema del green digital washing ecco io credo che un approccio del genere le prossime generazioni non ce lo permetterebbero grazie grazie Mariano Corso anche per il rispetto dei tempi vi avvio velocemente alla conclusione altrimenti dopo aver ringraziato ottengo i rimbrotti dalla regia perché non ho rispettato i tempi che mi sono imposti dalle trasmissioni prima di chiudere e di ringraziare voi tutti alcuni riferimenti ai quali potete aggiungere quello che volete anche facendo riferimento a me ma vi suggerirei di andarvi a leggere per rinfrescare ripassare alcuni concetti che sono usciti oggi il paper che ha realizzato ASVIS su questo tema è della fine dello scorso anno ma è ricco dati idee il rapporto dell'OMS di cui abbiamo parlato di cui ci ha parlato Chris Brown andatelo a leggere è in inglese esiste solo la versione inglese ma è molto anche in questo caso ricco di idee di dati di considerazioni che ci aiuterebbero ad analizzare il nostro mondo ovviamente non possiamo non far riferimento quando si parla di dati e di ricerca alla ricerca del Politecnico di Milano che è recentissima è stata pubblicata il 27 di maggio di quest'anno anche lì tantissimi simoni su quello che significa il passare al digitale all'interno del mondo della salute tutto questo lo riprenderemo qui chiedo agli amici le colleghe della regia di mettermi la slide di memo lo riprenderemo come vedete qui brevissimamente il 27 e il 28 di ottobre in forum Pia Sanità in cui siete tutti invitati ovviamente a partecipare ringrazio Alessandro Longo e tenete sempre presente la sua la sua newsletter il suo giornale per quello che riguarda l'approfondimento dei temi di digitale ringrazio Carla Gollicelli ringrazio Mariano Corso ringrazio Tonino Aceti ringrazio Chris Brown ringrazio Stefano Lorusso e nuovamente vi do appuntamento ad ottobre per continuare ad approfondire questo tema sottolineando che ci prendiamo l'impegno rispetto a quello che ci ha invitato a fare Carla Gollicelli cioè a tenere sotto controllo come realmente per evitare quel fenomeno che Mariano Corso ha risottolineato in chiusura grazie buon lavoro a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti a tutti